Signore, tu sei benedetta per il tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, pregami a noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, AME. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Adesso, nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il principio, ora e sempre nei secoli, e dei secoli, ti entro dati. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.